Ciao amici, i titoli dei miei video sono dettati così un po' della castroneria. A mezzagliare i tre due. A presto. Io non è che riscrivo quel che ci credo, è perché quando finisco... La fantasia con le poesie, mi vengono le cose un po' erotiche, che fanno sorridere. Alla prossima. Comunque devo andare a vedere cosa vuol dire che stroneria e che non lo so neanche io. Alla prossima. Alla prossima. A presto. Alla prossima. A presto. A presto. A presto.